salve a tutti e allora andiamo un po a definire il video qui sulla testata della renault 5 turbo allora andiamo a vedere un po qualche modifica intanto sono state sostituite le guide quindi dopo una lavorazione dei condotti a livello di sistemazione più che altro non di allargamenti eccessivi anche perché come faccio ora vedere un po già a livello di sezione eravamo quasi ottimale quindi sono state cambiate le due geometrie sia dell'aspirazione che dello scarico delle guide anche se onestamente le guide quelle dell'aspirazione sono state fatte qualche millimetro più lunghe rispetto all'originale quindi al limite valuterò questa opzione lo potrò ribassare leggermente anche dopo poi mi è servito farle più lunghe soltanto per qualcosa che voglio andare a provare nella fluidinamica dei condotti al di là che possibilmente possono andare a rallentare leggermente il flusso però dal video precedente che abbiamo fatto possiamo stabilire una cosa questa è una testata che l'andremo a montare in una macchina stradale però leggermente più più impante quindi con delle modifiche fatte a livello di pistone bl quindi anche qualcosina di cambiamento anche nell'albero a cam e come prestazione della turbina però non è non andrà a montare sul motore da corsa quindi questo lo voglio dire e al di là di queste modifiche che andiamo un po a vedere quindi ottimizzato un po i condotti dell'aspirazione qualche lucidata in più sullo scarico anche se io non vado a fare mai lo scarico anche lucido come una mia fissazione niente di più e allora cosa voglio andare a fare dire cosa voglio dire in più sulla testata della rena 5 turbo che momentaneamente ho provato al di là della sezione dei condotti che ora vado a spiegare qualcosa ma sulle sedi se vogliamo avere una testata per proprio per delle corse quindi andare ad utilizzare la testata per una macchina di corsa l'unica cosa che ho valutato attraverso anche la lettura precedentemente che dovremmo andare a aumentare la sezione sia dell'aspirazione che dello scarico quindi avere un incremento a livello di passaggio ma più che altro perché va a ostruire un po la il passaggio dell'aspirazione dello scarico quindi questo è un passo che se dobbiamo andare a montare una macchina da corsa a mia valutazione poi ci sarebbe ancora da poter valutare perché ora ho fatto delle modifiche voglio vedere cosa vado a trovare però questo è una qualcosa da andare a fare quindi da aumentare anche di un millimetro la valva di aspirazione già dello scarico andrà a funzionare meglio questo è un mio punto di vista però cosa voglio dire anche sull'aspirazione che ho notato una cosa quando nel video precedentemente abbiamo fatto nella descrizione del video ho visto che nelle varie lavorazioni quindi della valva della guida che si è trovata a una certa altezza ho visto che se andiamo a chiudere da qualche parte la sezione del condotto quindi come dimensionamento lo abbiamo a chiudere leggermente alla fine poi la portata totale la portata totale mi andava a cambiare ma di poco quindi per questo vado a dire che a livello di passaggio del condotto sulla testata del rollo 5 a secondo come va a lavorare già era ottimizzata proprio perché se ho chiuso il passaggio quindi ho messo da qualche parte della plastichina l'ultima volta è a parità di passaggio quindi ne ho chiuso che so un 20 per cento ancora mi dava la stessa portata del condotto senza ostruzione e quindi questo è un accorgimento che al di là della sezione siamo più ampi come passaggio quindi lo possiamo sfruttare soltanto per una densazione del flusso quindi si va a avere più flusso compresso qui nella parte della testata come sezione e all'apertura della valvola abbiamo maggiore spinta della dell'aria che viene compressa in questo spazio però quello che ho visto che quello che va a costruire un po' di passaggio è qui sul passaggio sede valvola quindi ci sono due sistemi da poter lavorare o con la sezione di passaggio o andando a fare qualche diversa lavorazione sul condotto quindi in questo video voglio vedere di mettere un po' di plastichina da qualche parte per andare a vedere se indirizzando il flusso da qualche parte andiamo ad avere degli incrementi maggiore però lo andiamo a vedere casamai poi alla fine perché intanto voglio valutare il passaggio del condotto per questo mi sono attenuto anche con il discorso della guida ho fatto una guida leggermente più lunga più prolungata quella dell'aspirazione quindi aspirazione perché prima per dare più sostegno alla valvola ma poi perché ho intenzione di fare qualche modifica in questo punto e quindi mi serviva un sostegno leggermente più alto anche se poi questa sezione qua la posso leggermente accorciare quindi vado a fare una fresa che mi va a fare questa geometria e quindi posso ribassare anche l'altezza della guida valvola quindi questo è qualcosa che posso andare a fare anche dopo mi serviva soltanto come spunto per vedere se anche l'altezza mi andava a incidere qualcosa e niente andiamo a fare prima la prova e poi dopo la prova andiamo a valutare anche il discorso della guida valvola dello scarico che è stata fatta leggermente diversa rispetto all'aspirazione proprio per non avere delle turbolenze vicino attorno alla guida valvola quindi ho lavorato attorno a questa sezione poi come passaggi già andava bene e quindi se dobbiamo andare a fare una macchina da corsa con delle sedi e andiamo a migliorare il passaggio possiamo anche leggermente aumentare le sezioni di passaggio dello scarico ma per perdere troppo spinta per adesso sulla turbina mi sono soltanto trattenuto nel raccordare leggermente le pareti quindi andiamo a vedere i dati di flussaggio e poi andiamo ad accennare qualcosa anche di cosa c'è stato e allora tutte le pare prove sono state fatte quindi dopo ho fatto alcune prove per vedere dei guadagni sia sullo scarico che sull'aspirazione ho trovato un buon compromesso quindi vado a dire già prima di vedere attraverso i grafici che il guadagno c'è stato sia nell'aspirazione che nello scarico come anticipato prima sullo scarico quello il guadagno che è stato ottenuto al di là del passaggio sede che è rimasto quello originale quindi sia per l'aspirazione che per lo scarico a livello di passaggio di sezione delle sedi è stato quello originale proprio perché non stiamo lavorando su una testata da corsa ma soltanto una preparazione più spinta a livello stradale anche se andiamo a montare qualche turbina un po' più spinta e quindi dei piccioni un po' preparati anche le bielle più rinforzate però sempre nell'ambito stradale e allora qualcosa vado ad anticipare vado a dire qualche altro no perché quello quell'incremento che ho avuto sull'aspirazione è un po' da valutare quindi lo voglio valutare poi attraverso la prova su strada e l'ha resa anche al banco prova dell'autovettura proprio perché non abbiamo modificato un passaggio sede ma abbiamo fatto un aggiustamento su come definire delle traiettorie un po' sul condotto che mi hanno portato qualche leggero guadagno rispetto a come era prima e ripeto anche se abbiamo avuto un'ostruzione in più per la guida valvola leggermente più lunga ma poi mi è servita anche a definire questo tipo di lavorazione quindi non tutto viene programmato ma poi viene ritrovato attraverso le varie prove che poi ho dovuto fare quindi anche sull'aspirazione qualcosina di modifica andrà fatta addirittura con un'aggiunta di salvatura proprio perché abbiamo scoperto che la sezione è più ampia di quella che dovrebbe essere in alcuni punti quindi lo andiamo a valutare poi attraverso le prove che abbiamo a decifrare un po' dal grafico e allora andiamo a vedere un po' dove è stato il guadagno sulla testata quindi partiamo sempre dal grafico di lettura che abbiamo avuto inizialmente quindi dalla testata semilavorata che mi è arrivata per fare una prova di brussaggio da questa poi abbiamo cambiato le guide e ripeto anche con le guide leggermente più lunghe che ho voluto valutare un altro tipo di lavorazione si è mantenuto quel grafico iniziale e addirittura poi verso 9 mm qualcosina è andata a perdere proprio per la lunghezza che abbiamo eccessiva dell'aspirazione però da valutare che anche nel turbo non ci arriveremo a queste alzate ma abbiamo valutato che qualcosa mi è andata a perdere nella modifica delle guide valvole come lunghezza in questo tratto dell'aspirazione però mi è servito per fare ulteriore lavorazione e questo è il distaccamento che poi ho avuto alla fine vedete con delle lavorazioni di aggiustamento ho guadagnato sia nelle basse aperture e quindi anche sulle alzate massime quindi con un profilo sempre a salire però al di là di questo delle modifiche che ho dovuto fare ho migliorato ancora qualcosina nel senso che andando oltre 11 mm quel leggero guadagno che avevo alla fine poi non mi serviva per questo tipo di testata quindi ho otteneremente lavorato il condotto e dopo 11 mm ho avuto delle leggere perdenze qui dovuto proprio anche a quel distaccamento della guida più lunga ma ho avuto dei miglioramenti ancora nelle basse aperture quindi partendo da un millimetro fino andiamo a vedere di togliere ecco da un millimetro fino a 11 mm l'avvertura dell'aspirazione abbiamo avuto una media di incremento e quindi ripeto sempre a parità di sezione valvola e con la stessa valvola che andiamo a fare delle modifiche l'incremento l'abbiamo ottenuto ed è ben sostanzioso se andiamo a valutare che non abbiamo lavorato sulle sezioni del passaggio delle sede valvole proprio perché se vogliamo andare oltre quindi spingerci a livello di potenza ancora di più dobbiamo lavorare sul passaggio sede valvola sia di aspirazione che di scarico quindi andiamo a togliere un po' l'aspirazione che abbiamo avuto quella iniziale e lasciando questa che abbiamo ottenuto i maggiori incrementi anche se poi dopo ripeto 11 mm qualcosa andava a perdere ma qui non ci andiamo più a lavorare andiamo a fare una prova dello scarico e vedete questo è lo scarico che ho migliorato quindi ora lo vado a fare vedere attraverso il grafico di confronto da quello iniziale con quello preparato vedete che lo grafico dello scarico come va ad avere ulteriori incrementi di guadagno sia nelle basse aperture e poi non ci fermiamo soltanto a determinate altezze ma continuiamo sempre a guadagnare fino anche a 14 mm e qui non siamo andati oltre certe lavorazioni di sezione di condotto proprio perché stiamo parlando sempre di un passaggio sede originale quindi andiamo un po' a valutare gli incrementi dell'aspirazione dello scarico da quello iniziale che già erano più che altro dei condotti un po' sistemati quindi non è sempre un lavoro iniziale da una testata ancora senza essere lavorata allora se andiamo a vedere il condotto dell'aspirazione questa in blu vedete aspirazione semi lavorata perché mi è arrivata già così e questo è il grafico che abbiamo ottenuto nella prima lettura e poi questo qua è quello finale anche se non ha gli ultimi incrementi nelle massime alzate però abbiamo avuto qualche cosina ancora di miglioramento nelle basse aberture quindi se andiamo a vedere in GFM in alcuni punti andiamo a superare ben 10 GFM di differenza o perlomeno ci siamo già vicini quindi passiamo da 16 GFM a un millimetro contro i 25 che abbiamo ottenuto adesso quindi quasi 26 quindi siamo 9 GFM quindi poi man mano andiamo a scendere ma la media siamo da 81 siamo passati a quasi 90 quindi l'incremento dell'aspirazione l'abbiamo avuto parlando sempre passaggio seto originale è andare a fare qualche aggiustamento a livello di lavorazione nel condotto con qualche saldatura che poi verrà fatta perché io ho fatto un'aggiunta di plastichina ma già so dove andarla a fare però ripeto per il momento non vado a dire di cosa si è trattato perché voglio avere un riscontro poi a banco del motore quindi avere un risultato anche a livello stradale come si va a comportare però già la guida ha fatto anche il suo lavoro ma lo andiamo a vedere più che altro nella parte dello scarico quindi se andiamo a confrontare anche i dati dello scarico vedete da 89 e 40 quello iniziale che abbiamo avuto sullo scarico che era sempre leggermente lavorato ripeto siamo passati a 96 82 quindi l'incremento vedete qui c'è stato in alcuni punti superiori quindi nelle basse aperture abbiamo guadagnato e poi dalla media in su ripeto anche se non abbiamo un riscontro che andiamo a valutare tutta l'alzata della valvola ci serve soltanto per vedere che il guadagno che abbiamo ottenuto in alcuni punti va sempre ad essere trovato anche nelle alte aperture e quindi ripeto sullo scarico non ho lavorato onestamente sul condotto perlomeno ho dato soltanto piccoli punti di aggiustamento come andare a fare un aggiustamento di misura sui vari condotti a livello di sezione quindi andare un po' ad avere uniformato quella sezione di passaggio dello scarico come dimensione questo incremento l'abbiamo avuto soltanto lavorando il profilo della guida valvola e lavorando nel passaggio della testata attorno alla guida valvola quindi questo già l'avevo preannunziato come tipo di lavorazione che volevo andare a fare e questi sono i guadagni che abbiamo ottenuto andare oltre in questo momentaneamente su questo tipo di motore era esagerato andare a fare perché poi andavamo a perdere di spinta sulla turbina quindi se andiamo a preparare un motore più spinto con altre caratteristiche allora potremmo andare oltre anche con il passaggio della sede valvola modificata come vi ho detto all'inizio quindi andiamo un po' a vedere ora sulla testata quello che abbiamo riscontrato qui a livello di grafico che vi sto accennando quindi vedete un po' lo scarico tutto il guadagno che abbiamo ottenuto soltanto andando a lavorare sulla guida e sul passaggio guida valvola quindi questo ve lo vado a dire sull'altro guadagno che abbiamo avuto invece sull'aspirazione sempre ripeto a parità di sezione valvola la modifica un po' più complicata ad andare un po' a spiegare però la voglio prima valutare prima di andarla a dire di cosa si tratta d'accordo anche perché su questo tipo di testata del reno 5 in tanti non mi hanno dato fiducia quindi andare un po' a divulgare alcune cose non sta bene nemmeno a me d'accordo andiamo a vedere un po' sulla testata e allora come ripeto andiamo a dire che i passaggi sede valvola sia di scarico che di aspirazione sono rimasti quelle originale quindi non abbiamo avuto incrementi né di sezione di passaggio né nemmeno di valvole sia di scarico che di aspirazione quindi quello che andiamo ad avere soltanto degli aggiustamenti come ho detto di profilatura soltanto di guida valvola e anche sullo scarico abbiamo eliminato quel riflusso che andavamo ad avere attorno alla guida valvola dello scarico quindi quella sezione che andiamo a togliere quindi a lavorare ad aggiustare soltanto un aggiustamento attorno proprio alla guida valvola dello scarico sull'aspirazione invece la cosa è un po' più complicata e quindi voglio avere prima dei risultati sia a livello di comportamento su strada che anche con la macchina messa a banco anche se vuoi andare poi a dire che con un tipo di aspirazione con l'iniezione quindi andiamo a aggiustare un po' anche sulle varie mappature che andiamo a fare anche sulla testata su questo tipo di motore che si potrebbe andare a modificare e il comportamento sarà ancora più amplificato quindi c'è da fare questa valutazione poi anche perché ripeto su questo tipo di testata se vogliamo avere degli incrementi a livello di motore da corsa dobbiamo aumentare le sezioni di passaggio sia sullo scarico che sull'aspirazione almeno da quello che ho avuto come valutazione questo è quel tipo di comportamento che abbiamo possibilmente con le varie modifiche che poi abbiamo fatto e anche sull'aspirazione ho dovuto fare anche su quel passaggio di sete più aumentato ne andiamo a riscoprire ancora degli incrementi superiori però momentaneamente ripeto non è un motore da corsa e quindi abbiamo ottenuto questi incrementi e questi mi sono stati come dire mi stanno bene ok e quindi questi sono i profili della valvola che poi andiamo leggermente pure a lavorare come ripeto sempre quei tipi di lavorazione sugli angoli da poter raccordare eventualmente e nulla quindi non mi rimane soltanto che andare a dare una leggera rettifica sulle sete valvole per andare ad avere l'appoggio in linea con le guide anche se su quella che abbiamo lavorato già al 90% c'eravamo già quasi quindi su questo vado a dire che non abbiamo avuto nessuna perdita a livello di tenuta su quel cilindro che abbiamo fatto quindi andiamo a fare questo è una leggera spianatura leggerissima perché già va bene in questo modo